ciao a tutti amici dei pesci benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale va bene mostrami pesci tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2024 allora la prima carta e il papa la seconda la prendo solo se bella a no ce ne sono due niente ragazzi allora teniamo solo il papa allora amici dei pesci quando c'è la carta del papa si parla di ufficializzazioni si parla di anche guida spirituale piuttosto che elevazione spirituale ed è una carta anche che parla di contratti nello specifico e segna figura religiosa potrebbe parlare di matrimoni o contratti riconosciuti dalla società diciamo così andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi vi ricordo che le letture sono collettive quindi è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente segno lunare oppure venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 per le taro pratiche del 2024 e ci sono anche i link per i corsi gratuiti online che trovate comunque nelle playlist allora questa è una lettura generale ragazzi quindi può riguardare la famiglia il lavoro le relazioni di coppia io vi dirò qual è l'energia generale e andrò a farvi degli esempi giusto per facilitare l'integrazione della lettura nella vostra realtà per quello che riguarda i single le coppie il lavoro e economia e finanza pubblicherò altri quattro video specifici sempre con i segni zodiacali e li potete integrare con queste letture allora ragazzi partiamo con un 8 di spade gli amanti un 6 di denari la temperanza un 10 di bastoni abbiamo un 7 di coppe e un re di spade scusate un cavaliere di spade dunque c'è qualche cosa che vi tormenta inizio mese con questo 8 di spade di solito è una carta che indica un attitudine nel vedere le cose che piuttosto negativa piuttosto negazioni sta si dice comunque una persona che dice no a tutto e ma a me è sembrato così no 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 ti sbagli puoi fare così no 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 sono quelle persone che hanno sempre no in bocca siete un po in questa attitudine con lotto di spade all'inizio del mese devo dire che poi le energie cambiano perché qui abbiamo la carta degli amanti allora potrebbe riguardare appunto o una relazione che mantiene una carta che parla di amore a 360 gradi quindi potrebbe essere un amore verso qualcun altro ma anche un amore verso se stessi devo vedere carta per carta così riesco essere più specifica andiamo a vedere con lotto di spade abbiamo un carro regina di dena di coppe e regina di bastoni e come se ci fosse da scegliere se andare in una direzione piuttosto che in un'altra se andare verso una persona piuttosto che verso l'altra andiamo a vedere gli amanti asso di denari e 4 di spade allora devo dire che a livello spirituale questa carta degli amanti la sento molto forte però qui avete la temperanza come avete il quadro di spade al contrario manca un certo tipo di concretezza ragazzi in questo amore datemi una carta per l'asso di pentacoli vediamo se riesco a dirvi di più e se di un'altra volta sei di denari manca un equilibrio in questa relazione di coppia o se per caso la parte degli amanti rappresentasse l'amore che voi avete verso voi stessi manca una sorta di equilibrio troppo amore tra virgolette rivolto verso se stessi potrebbe trasformarsi in egoismo quando si vede solo per sé intendo dobbiamo vedere questo sei di denari qui c'è qualche tema legato probabilmente la parte economica allora abbiamo un fante di coppe un 2 di bastoni e un 7 di spade allora se fosse una relazione di coppia magari anche con convivenza devo dire che qui le cose devono essere rimesse in equilibrio o sì o sì è come se ci fosse un qualche questione di tipo pratico che deve essere rivista rifocalizzata riequilibrata fate attenzione a non dare più di quello che potete perché poi c'è come un diciamo spreco di energia c'è una fuga di energia poi alla fine vi sentite troppo scarichi sedate troppo dall'altra parte come la sensazione che vorreste una mano in più da parte dell'altra persona datemi una carta per i setti di spalle 5 di coppia 4 di denari regina di spade e 9 di pentacoli sì qui c'è qualche questione economica in mezzo è io come la sensazione che qualcuno si potrebbe essere attaccato o al tipo di indipendenza economica che ha in questo momento o probabilmente facendo questa scelta di cui ci parla il carro potrebbe essere messa in discussione la sicurezza economica che voi avete ed è per quello che sento come se ci fosse una sorta di autobugia che vi raccontate inerente una questione pratica proprio ma ci sta perché avete lotto di spade quindi come se inizio mese non vedeste ancora via d'uscita non riuscite a capire come svincolarvi da questa situazione mi viene da dire andiamo a vedere la temperanza sette di coppe appeso e dieci di coppe ragazzi io qui ho la sensazione che o qualcuno vi offrirà mi farà un'offerta vi proporrà qualcosa che poi non si concretizzerà perché qui abbiamo anche sette di pentà di coppe che una carta di illusioni fondamentalmente e qui con la parte dell'appeso è un po come se vi dicessero cercate di vedere le cose da un altro punto di vista avete la temperanza che di nuovo una carta di riequilibrio che è un po quello che vi dicono qui con questi sei di denari e comunque sento che per qualcuno c'è da accettare un certo tipo di situazione tenete presente che avete anche un dieci di bastoni che è una carta che vi invita a lasciarvi indietro i pesi che non sono vostri andiamo a vederlo imperatore giudizio e asso di spade è come se ad un certo punto metteste delle regole vi dico avete due carte che parlano di comunicazioni e quindi aspettate una comunicazione nella seconda settimana di aprile potrebbe essere una comunicazione considerate tutte questi pentacoli questa situazione concreta che io sento potrebbe essere una questione di casa potrebbe essere se per caso state aspettando dei contratti ipotesi per voi risuona come una situazione lavorativa vi dico che arriveranno arriveranno contratti arriveranno nuovi scambi commerciali arriverà tutto mai come se doveste dare poca energia alla volta non vedrete i risultati arrivare nell'immediato tenete presente che avendo anche la carta del giudizio c'è come una presa di consapevolezza delle responsabilità di cui stavate sopparcando che in realtà non sono vostre e quel equilibrio che bisogna ripristinare all'interno di questa relazione o di questa situazione diciamo che con la carta dell'appeso il vedere le cose da un altro punto di vista vi darà l'opportunità di lasciare indietro quello che non vi serve più per focalizzarvi sul futuro su nuove idee su nuove opportunità andiamo a vedere questo sette di coppe abbiamo un 6 di bastoni un 9 di coppe e il papa si ragazzi qui si tratta di guardare al futuro con soddisfazione con anche illusione in senso buono cioè in spagnolo rende bene perché si dice tenere illusion cioè avere speranza avere come si chiama entusiasmo illusione in quel senso vi dico di nuovo esce il papa un'altra carta di contratti se state aspettando un aumento di ruolo un cambio anche lavorativo ragazzi arriverà una telefonata che vi cambierà mi verrebbe da dire la vita però diamoci piano non facciamo voli pindarici mi hanno detto che si dice con la r anzi grazie a chi ha commentato insomma non facciamo voli da iperbole ecco non facciamo viaggiare troppo la fantasia il senso è quello abbiamo anche un 9 di coppe e quindi c'è una sorta di appagamento per il risultato raggiunto che appunto come vi dico arriva io sento che un contratto che state aspettando da tanto un qualche tipo di accordo un qualche tipo di scambio un qualche tipo di vincita di vittoria mi viene da dire andiamo a vedere cavaliere di spade perché ho la sensazione che come dire andrete dritti verso la meta tre di bastoni e mago ok quindi è un po come se si smettesse sempre solo di progettare di pensare quali potrebbero essere le opportunità possibili ma si inizia ad agire con la carta del mago e questo cavaliere di spade sento che andrete dritti verso il vostro obiettivo vi dico nuovi contratti in arrivo nuovi scambi commerciali ma dovete mettere voi giù le regole del gioco che cosa vi fa stare al sicuro qual è la vostra zona di comfort quali sono le vostre barriere che cosa accettate che cosa no che cosa siete in grado di fare in questa situazione di scambi commerciali piuttosto che come no se per esempio non lo so avete un'azienda di servizi vi chiedono dieci cose che sapete fare due che non sapete fare come vi comportate con il cliente e evitate di prendere il lavoro prendete lavoro solo per quello che sapete fare oppure provate a fare anche quello che non sapete fare e qui è un po come il ok che tipo di alternative o però ragazzi è una buonissima lettura e devo dire perché si parla appunto di ufficializzazioni si parla di risultati raggiunti non sento tanto i soldi che arrivano sinceramente però più un movimento per ok so che posso fare questo so che quello il mio obiettivo e lavoro con costanza con regolarità con serietà con minuziosità per ottenere il risultato che voglio e qui a metà mese sento che inizierete qualche cosa di nuovo ragazzi andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per vedere come come concludere la lettura carta numero 14 i ragazzi che tra l'altro lo stesso numero della temperanza è un po la sensazione che siano collegate in questa lettura allora qui parla di famiglia di albero genealogico di espansione di legacy come si dice di sì legami diciamo di anima mi verrebbe da dire no perché questa è una carta che si parla di famiglia a livello fisico a livello di persone che vi stanno intorno però parla anche di avi di predecessori parla anche di tutte quelle persone che hanno vissuto prima di noi e che in qualche modo fanno parte del nostro bagaglio noi siamo quelli che siamo anche a causa o grazie tutto quello che hanno vissuto i nostri avi per il sistema di credenza che si si eredita per il sistema genetico per un x motivi ok quindi qui fa riferimento anche un po la famiglia di anni e vi dico un'altra cosa molte anime gemelle sono colleghi di lavoro piuttosto che amici che quindi anche in questo caso sento un po che potrebbe esserci quel tipo di assonanza anche se in realtà non ho carte specifiche qui a parte gli amanti che mi parlino di anime gemelle però è per farvi capire di che cosa si parla allora andiamo a vedere ancora una meditazione di findorn quando un bambino inizia a camminare ci vogliono parecchi passi esitanti perché possa incominciare a sentirsi più sicuro quando la sua fiducia aumenta la sua andatura diviene più stabile finché riesce a camminare senza incespicare poi impara a correre a saltare ma sempre tappa dopo tappa così è per la fede va costruita gradualmente non viene tutto in una volta si paziente e non mollare mi venne mostrata una grande conchiglia bivalve la vidi aprirsi molto lentamente e notai che appena qualcosa le si avvicinava essa si richiudeva subito ed ogni volta le era più difficile restare aperta udì queste parole mantieni il cuore spalancato in modo che l'amore possa continuamente fluire in esso e attraverso di esso irrorando sempre di più il mondo bellissima carta questa ragazzi bene amici dei pesci questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere nei commenti se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale se avete un iphone non compare il tasto abbonati quindi vi consiglio di entrare dal computer io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao